Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Nelle anticipazioni di Terra Mara di domenica 10 dicembre, Demir e Zuleya scoprono la vera identità di Sevda e il suo legame con Umit. Mentre Sevda viene cacciata dalla villa, Shermin e Betul proseguono con il loro piano per distruggere Demir e la sua famiglia. Domenica 10 dicembre. Il palcoscenico dell'evento per la Fondazione di Beneficenza si anima con l'intervento di Zuleya, che rende omaggio a Uncare e ringrazia il marito e Fekli per la creazione della Fondazione. Tuttavia, l'atmosfera si carica quando Umit fa un'inattesa comparsa non invitata. Zuleya, sorpresa dalla sua presenza, cerca di continuare il discorso mentre Shermin e Betul tessono commenti maliziosi, e Sevda rimane scioccata. Zuleya prosegue parlando della missione della Fondazione a sostegno delle donne, annunciando corsi di alfabetizzazione e formazione professionale. Ringrazia Fekli per la generosa donazione di un milione di lire. Demir, per rassicurare Zuleya, promette di occuparsi di Umit, che nel frattempo è stata allontanata da Demir. Umit rivela a Demir di essere incinta di quattro mesi del loro figlio, scatenando la reazione scioccata di Demir che accusa Umit di mentire, e le ordina di abortire. Ma Umit, determinata, rifiuta categoricamente. Betul, nel frattempo, nascosta dietro ad una colonna, ascolta la discussione tra i due. Umit confessa a Demir, il suo amore e la sua decisione di tenere il bambino. Demir, sconvolto, la respinge, ribadendo la sua volontà di farla abortire e di allontanarla dalla sua vita. Betul, dopo aver seguito la discussione tra Umit e Demir, si avvicina a Umit mentre piange e le offre il suo sostegno. Fingendo dolcezza, le chiede se c'è qualcosa che possa fare per aiutarla. Umit, nel dolore, le racconta della promessa di Demir di divorziare e della sua attuale volontà di liberarsi di lei. Betul le consiglia di resistere alla prepotenza di Demir e le offre il suo appoggio. Umit le è grata per le sue parole. Nel frattempo, Zuleyha chiede a Demir se ha parlato con Umit. Ma lui, mentendo due volte, risponde di non aver parlato con lei, assicurandola che Umit non li infastidirà più. Betul rientra nella sala e si avvicina a Demir, fingendo preoccupazione per la situazione con Umit. Gli chiede come sta, riferendo che sua madre le ha parlato di lui e di Umit. Sottolinea che la presenza di Umit all'evento sembrava inquietante. Demir la rassicura, dicendole di non preoccuparsi e preferirebbe cambiare argomento. Il mattino seguente, quando Shermin e Betul raggiungono Demir e Zuleyha per la colazione, Shermin si offre gentilmente di andare a prendere Aminne. Nel frattempo, la nonnina si trova nella camera di Zuleyha dove sta cercando qualcosa in un cassetto. Shermin cercando di aiutarla, scopre la foto di Demir con Umit, che Mujgan aveva dato a Zuleyha, nascosta tra le maglie, e la prende sorpresa. Demir ha un incontro isolato con Umit, che fraintende l'obiettivo dell'incontro e esprime la sua felicità pensando che lui voglia il loro bambino. Demir, però, la sorprende, affermando che non saranno mai una famiglia e che lei da sola non potrà dare al bambino una vita felice. Gli ordina di interrompere la gravidanza, ma Umit rifiuta, assicurandogli che lo amerà profondamente quando lo avrà in braccio. Demir la rispinge, accusandola di usare il bambino come strumento di vendetta senza realmente preoccuparsi di lui. Nel frattempo, Zuleyha si reca a casa di Fekli, dove trova Fikret, Lutfie e Fekli stesso. Dopo le condoglianze per Mujgan, Zuleyha rivela loro che, in un momento di rabbia, ha venduto le azioni dell'azienda di Demir attraverso un avvocato, senza conoscere l'identità dell'acquirente. Adesso, non riuscendo a rintracciare l'avvocato, chiede a Fikret se sia stato lui a comprarle, offrendosi di ricomprarle al doppio del prezzo. Fikret nega categoricamente e ribadisce di non avere più interesse alle proprietà di Demir, augurandole di scoprire al più presto chi le ha acquistate. Shermin è a casa con Betul, assicurandole che ora sono dalla stessa parte e nessuno potrà far loro del male. In quel momento, Shermin mostra a Betul la foto di Demir e Omit che ha preso dal cassetto di Zuleyha, sottolineando che potrebbe essere loro utile. Betul risponde entusiasta che quella foto è come possedere un biglietto d'oro. Nel frattempo, alla villa, Sevda entra nel salotto e sente Demir al telefono discutere di una questione privata che nessun altro deve sapere. Demir precisa che la donna coinvolta non è d'accordo, ma sarà da lui alle 8. Preoccupata, Sevda chiede a Demir di cosa si tratta. Lui le risponde che è nei guai perché Omit è incinta e rifiuta di abortire. Ha trovato un medico che pratica aborti clandestini, ma Sevda, agitata, gli chiede di non farlo, sottolineando che Omit potrebbe morire e appellandosi alla sua misericordia. Demir, però, ribatte sostenendo che Omit è una psicopatica che non desidera essere madre, ma vuole solo vendicarsi di lui. Omit, nella sua stanza, indossa una pancia finta e medita vendetta contro Demir e Zuleya. Successivamente, si reca in ospedale, dove Betul la raggiunge e le esprime la sua preoccupazione dopo la serata dell'evento. Omit le assicura che sta bene, è pronta a combattere e ringrazia Betul per il coraggio che le ha ispirato. Poi, la invita a pranzo, durante il quale confida a Betul di amare profondamente Demir, ma sa che lui è ancora legato a Zuleya. Betul la esorta alla pazienza, sostenendo che alla fine vincerà. Successivamente, Betul racconta a Omit la storia di Unkar, dipingendola come un egoista che ha rovinato il matrimonio dei suoi genitori. Le rivela che alla morte del nonno, Unkar si è appropriata di tutte le proprietà di sua madre Shermin, senza darle nulla in cambio, lasciandoli ora senza niente. Betul continua a sottolineare che Adnan era diverso da Unkar, innamorandosi di Sevda e amandola profondamente. Tuttavia, Unkar non ha permesso che stessero insieme, e ora Zuleya sta facendo la stessa cosa con Omit. Infine, Betul le insinua che, anche se Zuleya non ama Demir, non lo lascerà mai per interesse, poiché Zuleya proviene dai bassi fondi di Istanbul, priva di istruzione ed educazione. Nel frattempo, Sevda comunica a Zuleya di dover andare a Mersin da un'amica il cui marito sta male, e deve prendersi cura dei suoi bambini. È sera, mentre Omit sta guidando, improvvisamente un uomo salta fuori dai sedili posteriori, le punta la pistola alla tempia e la narcotizza. Viene portata in uno studio medico, ma la polizia arriva rapidamente, arrestando il medico e consentendo a Omit di fuggire. Sevda, appostata all'esterno, osserva Omit, la segue e la fa salire in auto, informandola che è stata lei a chiamare la polizia e che non la lascerà mai. Demir è a casa quando riceve la notizia che Omit è riuscita a fuggire durante l'irruzione della polizia nello studio medico e che non è stata catturata. Nel frattempo, Sevda porta Omit sotto casa di Feikli e le dice che Demir è fuori controllo e che farà del male a entrambe. Quindi Omit deve fare tutto ciò che dice Sevda. Poco dopo, Nazire chiama Feikli, informandolo che Sevda desidera parlargli di una questione importante. Sevda racconta a Feikli di una presunta relazione tra Demir e Omit, sottolineando che Demir ha cercato di ucciderla. Piangendo, confida di essere divisa tra l'amore per Demir e quello per sua figlia, chiedendo a Feikli di ospitare Omit per alcuni giorni fino a quando lei se ne andrà da Ciocurova. Feikli, impietosito, accetta, rassicurando Omit che da lui nessuno le farà del male e che non deve avere paura. Nel frattempo, Fikret cena con il cugino e gli confida di non riuscire a superare il dolore per la perdita di Mujgan. Il cugino lo incoraggia a dar tempo al tempo e lo invita a casa sua. Tornata a casa, Betul condivide con Shermin il suo piano di vendetta nei confronti di Demir, sfruttando la foto compromettente con Omit. A breve distanza, Shermin e Betul raggiungono Demir e Zuleya in giardino, portando un dolce come gesto di cortesia. Mentre Betul intrattiene la coppia, Shermin si allontana con la scusa di andare in cucina. Segretamente, entra nella camera di Zuleya e riposiziona la foto nel cassetto da cui l'aveva presa in precedenza. Torna poi tranquillamente in giardino per continuare la conversazione. Inaspettatamente, arriva Sevda, che con uno sguardo carico di odio verso Demir, sostiene di essere tornata in città a causa del rientro della sorella dell'amica. Il giorno successivo, Demir, in giro per il paese, scopre che sono state distribuite copie della foto compromettente con Omit, scatenando chiacchiere tra i cittadini. Fikret, invece, lo difende pubblicamente davanti alle voci malevole. Tuttavia, quando Demir lo affronta, riconosce che Fikret non è coinvolto. Nel frattempo, alla villa, la notizia della foto raggiunge anche i membri di Villa Yaman, scatenando il pettegolezzo. Sanye, pur mettendo a tacere le voci, sospetta che qualcuno stia cercando di danneggiare Demir. Betul, soddisfatta delle copie della foto distribuite per Chukurova, riferisce a Shermin di averlo fatto al mattino presto, senza essere vista. Shermin, preoccupata delle possibili conseguenze e della rabbia di Demir, avverte Betul di non sottovalutare la situazione. Tuttavia, Betul è determinata a perseguire la sua ambizione e farà pagare a Demir tutto ciò che ha subito insieme alla sua famiglia. Successivamente, Shermin e Betul si presentano da Zuleyha con una copia della foto, affermando che è stata distribuita in tutto il paese, causando un vespaio di chiacchiere. Zuleyha, sconvolta, chiede chi possa essere responsabile, e Betul con ipocresia, esprime sconcerto per la malvagità delle persone. Sevda, preoccupata per la figlia, avverte Zuleyha che Demir non deve sapere della situazione, mentre Shermin e Betul scambiano sguardi complici. Anche Feikli riceve una copia della foto e, sospettando di Umit, la confronta con rabbia. Umit nega le accuse, sottolineando che sarebbe controproducente per lei. Furioso, Demir, dopo aver ordinato a Erjan di cercare Umit, affronta Zuleyha con la notizia della foto e le racconta che Umit l'ha umiliato pubblicamente prima di scappare. Demir è arrabbiato e afferma che avrebbe dovuto spararle quando ne aveva l'opportunità. Nel frattempo, Feikli chiama Sevda e le dice che Umit non può più rimanere da lui. In ospedale, un ispettore avverte a Ikute Batiyar che il ministero aprirà un'inchiesta su Umit, sospesa dalle sue mansioni. Sevda difende la figlia, ma Feikli, deluso, decide che non la proteggerà più. Umit ipotizza che Fikret possa essere responsabile, ma Feikli le ordina di non coinvolgere Fikret poiché ha deciso di porre fine all'odio. Sevda e Umit, allontanatesi da casa di Feikli, discutono sulla possibilità di lasciare Cukurova prima che Demir le trovi. Sevda promette di provvedere ai soldi necessari. Shermin fa una rivelazione sconvolgente a Demir recandosi in azienda con le copie delle carte d'identità di Umit e Sevda. Mostra a Demir che sulla carta d'identità di Umit è riportato il nome della madre, e quel nome corrisponde al nome reale di Sevda, indicato nella sua carta d'identità. Shermin evidenzia lo stesso nome, Fatma Osdem, svelando così il legame madre-figlia. Demir, incredulo, comprende di essere stato ingannato e intrappolato da Sevda e Umit. Sevda, nel frattempo, si prepara a lasciare la villa con i soldi che ha. Tuttavia, viene fermata da Demir, che la chiama con il suo vero nome, Fatma Osdem. Sevda è sconvolta, ascolta Demir rivelare che ha ritrovato sua figlia scomparsa e accusarla di aver complottato con Umit per rovinare la sua famiglia. Demir chiede se anche Fikret è coinvolto, ma Sevda nega il suo coinvolgimento, spiegando che ha appena scoperto che Umit è Aila, sua figlia. Demir, arrabbiato, le rimprovera di aver rovinato la sua vita nonostante lui l'abbia sempre trattata bene, chiamando la seconda madre e affrontando la critica di Ciuqurova per difenderla. Sevda ammette che non è riuscita a fermare la figlia, poiché è innamorata di Demir. Tuttavia, Demir le dichiara che per lui è come se fosse morta, accusandola di voler distruggere la sua famiglia. Zuley torna a casa sconvolta e, nel giardino, si trova di fronte a Gulten, Sanye e Fadik. Senza esitazione, rivela loro la notizia devastante, Umit è incinta e minaccia di distruggere la sua famiglia. In quel momento, Demir esce di casa trascinando Sevda per un braccio e la salire in macchina, avvertendo Zuleyha di non immischiarsi. Shermin e Betul accorrono, svelando che Sevda è la madre di Umit. Shermin afferma che aveva sospetti in merito, ma Zuleyha non le aveva creduto. Demir, a bordo dell'auto, accusa Sevda di aver cercato di compiere ciò che non aveva potuto fare quando Unkar era viva, anche dopo averle dato la sua camera. Sevda, piangendo, nega le accuse, rivelando di aver scoperto di Umit solo di recente e prega Demir di non farle del male. Demir le dice che se loro due se ne andranno quel giorno, torneranno con il bambino per ricattarlo, e lui non lo permetterà. La macchina si ferma vicino alla stazione ferroviaria, dove Demir ordina a Sevda di fare ciò che lui dice, se vuole che Umit viva. A quel punto, Sevda raggiunge Umit nella stazione di Adana, le consegna una borsa con i soldi e l'avverte di scappare immediatamente perché gli uomini di Demir le danno la caccia. Umit inizia a correre tra la folla, ma perde la borsa con i soldi, che si disperdono tra la gente. In seguita da quattro uomini, Umit si nasconde tra i treni fermi sulle rotaie. Demir, al suo ritorno a casa, dice a Zuley a che Sevda li ha ingannati. Che Sevda è la madre di Umit e lo teneva nascosto. Quando Zuley a gli chiede se lui sapeva di avere una figlia, Demir risponde di sapere solo che era stata portata da piccola negli Stati Uniti. Gli uomini di Demir riportano Sevda a casa, riferendo che Umit è riuscita a fuggire. Sevda, guardando Demir con aria sfidante, riceve la promessa che sarà trovata. Demir ordina quindi a Sani e di raccogliere tutte le sue cose. Nel frattempo, Shermin e Betul, nel loro giardino, godono della situazione. Shermin, curiosa, desidera raggiungerli, ma Betul la ferma, sottolineando il rischio che possano scoprire il loro doppio gioco. Zuley si avvicina a Sevda, rimproverandola per aver permesso a sua figlia di distruggerli, nonostante abbiano fatto di tutto per aiutarla. Sevda risponde di aver fatto il possibile, ma non poteva costringere Umit a cedere. Demir, deluso dal tradimento di Sevda quando la chiamava madre, l'accusa insieme agli altri presenti. Sevda, esasperata, urla di non essere malvagia e di non voler fare del male, ma ammette la sua incapacità nel fermare sua figlia. Rivolgendosi a Demir, gli chiede se le crede, ma la risposta è negativa. Disperata, cerca di prendere la pistola alla cintura di Demir, chiedendogli di ucciderla. Demir, invece, ordina ai suoi uomini di cacciarla via dalla villa. Sevda, gettata fuori dal cancello, piange, sperando che la sua ila sia riuscita a scappare. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie.